Rete Ferroviaria Italiana, ascolti la nostra voce. Questo l'appello dei sindaci di Chieti, Manoppello e San Giovanni Tietino, comuni interessati dal progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara. Non si tratterà di una vera e propria alta velocità, ma piuttosto di un ammodernamento della rete esistente, finanziato con circa 7 miliardi del PNRR. Il 31 gennaio ci sarà un incontro tra RFI, la regione e i comuni interessati, tra cui anche Alanno e Scafa. Siamo d'accordo con la realizzazione del progetto, dicono i primi cittadini, ma RFI dovrà ascoltare le esigenze del territorio. Le esigenze sono quelle di razionalizzare il progetto ed evitare sacrifici agli abitanti dei nostri territori. Le possibilità di razionalizzare ci sono, ne abbiamo parlato con i colleghi sindaci, quindi suppongo che ci verrà data non solo audizione, ma anche verranno recepite le nostre esigenze. La legge esiste dal 2018, ma non è stata ancora messa in pratica. Il progetto poi è stato modificato, la ferrovia non sfrutterà la bretella dell'interporto di Manoppello e taglierà in due San Giovanni Tiatino. Non conosciamo nemmeno le ragioni dietro queste scelte, lamentano i sindaci. Che sia un progetto valido e non un progetto imbattante, un progetto negativo per il territorio. Quindi siamo stati soli perché siamo partiti un po' come dei guerrieri, diciamo, contro una montagna. La montagna a suo tempo non è stata bucata, nel senso non abbiamo raggiunto lo scopo. Oggi con le sinergie, oggi con questa unione di comune, secondo me non siamo i soli oggi a protestare, ma senz'altro io credo che si allineeranno anche altri comuni. Con questa voce comune speriamo di poter far modificare questo progetto. I lavori, così come impostati da RFI con la modifica del progetto, in questa tratta costeranno il triplo e saranno eseguiti da una società facente capo a rete ferroviaria italiana. E non potendo impattare sui siti di interesse comunitario, il progetto non ridurrà ulteriormente i tempi di trasporto di merce e persone. Noi già abbiamo un progetto che è quello della Bratella famosa che parte da Brecciaro e raggiunge il Manoppello, l'interporto per poi dirigersi verso Scafalanno. Per quanto riguarda il primo progetto si parla non più di 200 milioni di euro, questo primo lotto e il secondo lotto possono arrivare a circa 600 milioni di euro, quindi è alquanto molto più costoso con benefici sicuramente nulli.